Vi proponiamo un progetto di legge che riteniamo davvero molto importante. È un progetto di legge che propone di istituire la figura del garante per la disabilità, garante regionale. Il garante regionale per la disabilità è una figura importante, una figura importante perché ha lo scopo di fare un po' da centro, da riferimento per tutte quelle che sono le problematiche legate alle disabilità. Quindi per la promozione delle pari opportunità per le persone disabili, per la segnalazione agli enti di violazione di queste pari opportunità che possono andare per esempio dalle problematiche che si possono avere nelle case popolari, per esempio mi viene in mente, per le barriere architettoniche, cosa che molte volte la legge dovrebbe garantire che non ci siano barriere architettoniche per persone con disabilità che abitano nelle case popolari, ma così spesso non è. Quindi il garante può segnalare e intervenire riguardo a queste cose, piuttosto che problematiche degli studenti, piuttosto che problematiche per esempio di bullismo, cyberbullismo, quindi fare da collegamento, in modo che le persone con disabilità e coloro, i caregiver, gli amici anche, possano avere un punto di riferimento per segnalare tutto quello che è una violazione dei diritti delle persone con disabilità. Sarebbe anche un ufficio, quello del garante per le disabilità, che potrebbe istituire un registro dei disability manager, che sono persone che aiutano le persone con disabilità all'inserimento lavorativo. E sappiamo che questa è una delle grosse opportunità che può avere una persona con disabilità per avere una vita indipendente, perché è quello a cui vogliamo tendere. Vogliamo che sia garantito un diritto di una vita piena anche alle persone che hanno una disabilità. Pensiamo che comunque chi meglio di una persona con disabilità può rappresentare altre persone con disabilità. Quindi abbiamo messo un articolo, lo vedrete, che a parità di curriculum, perché noi andiamo sempre ovviamente per merito, però venga data la precedenza a una persona con disabilità. Il garante per la disabilità potrà anche istituire degli stati generali per la disabilità, per parlare di disabilità, e potrà anche fare delle azioni, quindi avrà la possibilità di avere dei fondi per fare delle azioni per sensibilizzare l'opinione pubblica su quelli che sono tutti i problemi per la disabilità. Questo progetto di legge è già stato depositato, simile, in Campania dai nostri colleghi del Movimento 5 Stelle ed è stato, diciamo che l'AERA è stato approvato sull'Ex. Vi chiedo per problemi nostri interni di deposito di legge, perché sapete che siamo a fine legislatura, di intervenire subito per delle osservazioni su questo progetto di legge, perché purtroppo lo dovrò depositare prima dei 60 giorni che normalmente riserviamo alle osservazioni sull'Ex. Quindi percorsesia intervenite subito, dite alle persone che possono essere interessate a intervenire, di intervenire subito, in modo che possiamo fare questo progetto appunto il più partecipato possibile e il più completo possibile. Grazie a tutti.